Venite d'accordo? Accordi che è crasciato BS? Sono tornato subito, sono tornato subito, vi prego Crascione bizzarro, ci siete? A parte che qua, forse devo fare così Aiii, è caduto tutto, è caduto tutto Mi è caduto tutto, sono connesso, si, gestione streaming Ok, 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 scusatemi Per quanto sono stato giù poco, vero? Che è crasciato, vi è partito subito Allora, stavamo dicendo Che il giudice parla Sono convinto di questi due, io No, cazzo Sono convinto di questi due La vittima è la madre Di questi due sì Questi sono quelli che mi convincono meno Proviamo No Allora Questo sarà il giudice L'avvocato E il giudice Che parla, non riesco a capire quale potrebbe essere Il giudice sta con le braccia conserte O così Qual è più da giudice, secondo voi, dei due? Proviamo tutti e due, ragazzi, devo fare No O forse la madre è disperata così Ma non credo, perché c'è il cartello la madre Però non sento Il giudice non vuole sentire L'avvocato È paralizzato E la madre non può parlare Merda Allora Il giudice si è un convinto che non vuole sentire L'avvocato La madre non vuole vedere E No, la madre non vuole vedere E l'avvocato È così Rileggiamolo di nuovo Cazzo Ah, la madre non vuole vedere Sì, allora Il giudice parla È violento, parla La difesa è ipnotizzata Quindi è immobile La madre è disperata On a slip of paper Questo è il martello Questo è ovvio Questo è l'unico ovvio La madre non vuole Non capisco la madre Istintivamente viene a dire che non vede Il giudice non sente Sta qua cos'è? Ha le braccia Boh Proviamo No Cazzo Proviamo con così E poi con l'avvocato No Non so Qual è la soluzione Dimmi Aspetta Ti metto quella che secondo me è quella giusta Ti metto quella che secondo me è quella giusta E tu mi dici Quante sono quelle Quelle sbagliate Ah, poi ipnotizzato Forse non riesce a parlare l'avvocato Ok Io ti dico che è questa È giusta? Quante sono giuste e quante sono sbagliate Tre sbagliate Bene Che ovviamente sono le prime tre quelle sbagliate Giusto? Quindi Mettiamo che il giudice è così L'avvocato allora è così E la madre è così Adesso Quante sono quelle sbagliate? Tor Oh madonna L'ultima è giusta Rispondi L'ultima è giusta Sì, per forza Tutte e tre sono sbagliate Allora per esclusione Adesso mi rimane Questa Questa Ok, adesso invece Non riesco a capire Non ci arrivo, cazzo Non ci arrivo davvero È difficilissimo sto cazzo di puzzle Ritenta In che senso? Vado No Senti, dimmelo Perché è impossibile Sto cazzo di Di enigma Dimmi la risposta Ah, il giudice non vede Il giudice non l'ho capito Lui è disperato L'avvocato è disperato La madre è senza parole Il giudice non vede la verità È la madonna ragazzi Cioè Peso Uuuuh Abbiamo salvato il prete almeno Andiamo Che va di qua il bagno Aspetta ogni volta Ragazzi Cioè In effetti Avemo una spara a chiodi Come arma No vabbè Ma con la soluzione Ti perdi metà del gioco Cioè con voi Ci sta però Eh Non ci credo E come la potenzio Sta roba Ah The power is adjustable Così è di più o di meno Yeah Abbiamo salvato il nostro amico prete A posto Oh no Oh no Come no Come no Come no Where can I find He's usually in his office You'll I'll go find him He might be able to Thank you father I'm sure Uuuuh Uuuuh Nice Questa possiamo usarla di là E come si usa però So combinarla Ah no Oh cazzo Il gioco Si è appena Si è appena Trasformato Cazzo E posso spegnerla Posso spegnerla E accendela No No Come si spegne E accende Ah c'è il tasto veloce Per la mappa Cazzo Come si spegne E accende Sta roba Ha un power switch Vabbè Comunque possiamo Distruggere Quel coso Adesso Si Let's go Si questo è potentissimo Cazzo Dobbiamo essere Verso la fine del gioco Perché sta roba Stravolge Tutto Praticamente Dov'è che era Di qua Il fatto che sto Cosa un tastavità Non ha poco senso Aspetta Era troppo vicino Mi sono cagato in mano Oh cazzo Che è? È tipo una ruota Della Della tortura Ah Apro di qui E adesso posso Prendere la lancia Nel mondo Reale Toglio Troppo sgravo Vediamo Cosa c'è Cos'altro c'è qua Qui Yes E direi che In sospetto Abbiamo fatto tutto Adesso Adesso possiamo Caricare la batteria Yeah Un'altra arma Oh cazzo Pia Uh Medikit Un'altra porta Anche Yes È un'arma È un'arma in melee Questa È un'arma in melee Tipo No forse spara Non so No credo sia in melee Ma secondo me è potente Quindi Me la tengo E I can't open it Ok Mi sta bene Mappa 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 Ahia il buco del culo Allora Qui direi che abbiamo fatto tutto Dobbiamo Caricare la pila Adesso Che so dove si carica E lo studio probabilmente È Quando cazzo siamo Sberto porta No Stiamo nel corridoio Dobbiamo caricare la pila Ah comunque È caduta la live Quindi potete Ricaricare Di nuovo Il coso di Teresa Volendo Che cazzo sono Ah giusto Questo è un piccolo cieco Per forza Qui Second floor Up the east East wing Est Secondo piano Ma questo ufficio qua Cazzo Ma qua c'era la porta Chiusa E C'era la porta chiusa Che però Con le Con la pila Secondo me Con la pila Trovevo una soluzione Di sicuro Sì Andiamo Cos'è che mi ha dato lui? Credo che serviva di più a me? Ah la La torcia cazzutissima Mi ha dato Ok Di qua Ok allora Per caricare Sta pila Da qui Vado sotto Rimetto dentro Sto coso Così la porta Non si chiude Ok E posso entrarci Ehm Oh oh Sono respawnati I nemici Oh merda Sono respawnati Tanti nemici Merda Merda Ah merda Non è bastato Pensavo fossero tipo morti Tutte e due E invece col cazzo Ok aspetta Non facciamo cagate Non avranno tanta vita Aia Fa le combo Ok Uno è andato Dici che mi serve Il bullone Ma non penso Allora Se mi servirà ci torno Tanto sono uccido tutto Allora di qui Devo andare Ehm Ma no no Perché sopra è sbloccata Non serve Ehm Non ti preoccupare C'è un altro Metodo per passare Ehm Aspettiamo Stavo pensando Dov'è che era qualcosa Per caricare Nel closet Forse era nel closet Qua Sì Oh no It will take days To charge E quindi E quindi Dun Un Del Un 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 Un